Sacco della macchina con non solo a blu che dall'esterno prova a superarle tutti, operazione che riesce in 100 metri all'allieva di Luca Fierro, rinviene bene anche Orioneville che parcheggia sul compagno Oxford B. 13.2 lo strappo vehemente da parte di non solo a blu che affronta in vantaggio la prima curva all'anamede scavalco Orioneville, si sistema in seconda posizione a largo più indietro c'è Norma Jet pedinata da Issa Nofing, sposta a largo Orioneville dopo 400 metri micidiali in 27.5. E davanti alle tribune non solo a blu è avvicinata da Orioneville, 42.5 i primi 6, Norma Jet va a coprire Oxford B, MemorPF anticipa Issa Nofing, guarda tutti da dietro Nubia Beat. Metà gara se ne va nell'ordine del 58.2, si va forte, troppo forte per la categoria. E allora al comando non solo a blu sul penultimo rettilineo fa retromarcia Orioneville che viene aggirato da MemorPF, destra libera per un'anamede GSM al chilometro trattato in 1.13.7, l'anamede che passa insieme a MemorPF. Alla finestra c'è Oxford B, poi Norma Jet e Issa Nofing. I cavalli affrontano la curva conclusiva, la frazione 14.3, 1.28.200 con MemorPF che attacca a fondo l'anamede GSM a 2.50 alla conclusione. Poi Oxford B ha contatto così come Norma Jet che richiesta maggiore impegno quando si entra in retta d'arrivo. L'anamede è il MemorPF, l'anamede è in vantaggio, l'errore è il Norma Jet. Poi Oxford B, MemorPF che ci riprova per l'ultima volta, MemorPF passa e chiude. Si afferma sull'anamede GSM e al terzo posto Oxford B. 29.5 da arrivare, 1.57.7 il totale, 1.13.5 la media al chilometro di MemorPF, Maurizio Sivilla. Bella affermazione del figlio di Super Agile, ottimi gli ultimi sei tra MemorPF e un'area media GSM. Ver testa a testa, lungo l'arco dell'ultima curva, poi MemorPF rimonta metro su metro all'avversario, al terzo posto... Grazie a tutti.